Credo che la seduzione sia il primo motore del mondo, ci si seduce allo specchio la mattina e si va avanti tutta la giornata e chi più è seducente più è carico di energia. 4, 5, 6, 7, 8. 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 2 3 4 5 6 1 3 3 4 5 6 7 8 Right no dà car sociaux ok slow motion play turning say no word we praise error right fire i nac i go 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 No, beaute, beaute. Tu puoi sentire. Tornando lentamente. Cosa. Stare. 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 Beaute. So, beaute. Guarda, guarda. 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 Guarda, guarda, guarda. Beaute. Foto. Foto. Fotografare la piccola trasgressione che avviene solamente nel mondo della fantasia, per il 99% delle volte, tante volte la fantasia si realizza, ma in realtà è ciò che scatena il desiderio di comprare, di avere addosso una carezza come questo tipo di lingerie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.